Presi a tempo di record i due ladri che si sono introdotti nella notte tra il 7 e l'8 di novembre all'interno del Museo Civico di Castiglion Fiorentino portando via 58 medaglie. Avevano rotto una finestra, poi con l'ascensore erano arrivati al primo piano e grazie alle torce dei cellulari avevano individuato le medaglie di color oro. Poi erano scappati, avevano interrato le medaglie nelle campagne. Sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza non solo del museo ma anche del centro storico di Castiglion Fiorentino. È stato proprio il 23enne che interrogato dalla Polizia Municipale grazie anche all'aiuto dei carabinieri ha confessato e portato proprio la Polizia Municipale sul posto dove le medaglie erano state nascoste. Lo debbiamo al lavoro che ha fatto in primis la Polizia Municipale, il comandante Lunghini qui accanto a me e con il concorso e la collaborazione dell'arma dei carabinieri che non si è sottratta al lavoro che c'era da svolgere proprio perché solo ed esclusivamente attraverso un minuzioso lavoro di squadra e anche di dedizione assoluta in questi giorni, in queste notti è stato possibile ricostruire tutto l'accaduto. È stato uno studio attento di tutte le telecamere presenti nel centro storico che ci ha permesso un po' di individuare chi era presente a quell'ora della notte nel centro storico appunto, nella parte alta della città. E da qui, uno spunto, è nata tutta l'attività di indagine. Poteva essere questa la nostra preoccupazione all'inizio, quella di fonderle, però da come ci hanno parlato secondo me no, perché si erano anche informati sulla stima di alcune medaglie su internet, quindi probabilmente no. È entrato al comando nostro come persona informata sui fatti, perché era una di quelli che gravitava nella zona sospetta. Poi abbiamo visto, ha avuto delle perplessità, delle incertezze, erano tutti e due molto nervosi e uno di loro è caduto, è confessato tutto e ci ha accompagnato a recuperare le monete. Tra l'altro è un posto abbastanza lontano dal centro storico, hanno fatto tutto a piedi, cioè per dire ragazzi giovani ma non sprovveduti, perché assolutamente sì, hanno fatto un percorso più possibile mirato ad evitare le telecamere presenti, il nucleo operativo dei caravanieri che ha fatto i primi interventi per quanto riguarda se c'erano tracce o impronte, assolutamente non ha trovato niente. Il luogo che è una fortezza, quindi è difficile accedervi, loro sono riusciti a entrare ed uscire, quindi l'avevano nascoste nella valli di Chio, in località Cappuccini, sul margine di un torrente, sotto degli alberi sotterrate. Curioso il particolare che avevano nascosto sottoterra, queste monete fa un po' pensare alla favola di Pinocchio, però ovviamente qui di favola c'era poco. Sì, questo non deve sminuire il fatto, perché il fatto è molto grave. E' vero, gli autori sono giovani, hanno 20-23 anni, però quello che fa pensare è arrivare a entrare dentro un museo, come hanno fatto loro, è un fatto criminale abbastanza grave. Sono stati denunciati a Piede Libero per furto aggravato in concorso. Grazie. 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 Grazie.